ciao questa qua è la sorgente del tevere la sorgente del tevere ok guarda ok vai su di qua qui c'è un albergo bellissimo questi sono posti meravigliosi che magari non conosce il grande pubblico ma sono posti che guarda poi c'è una specie di albergo inerpicato penso sia un residence vieni su da qua guarda che capitello romano ok guarda che colonna e che roba guarda che roba ma dal bosco e poi probabilmente sopra c'era un'aquila perché qui c'era passato qualcuno qua allora magari mangiamo qua qui c'è uno spot solo che fa un freddo del biscaro fa veramente freddo ecco io adesso sono in maniche corte questa qua è la sorgente del tevere che è un fiume abbastanza famoso basta non so se lo conosci io posso andare qui rischio di cadere vedi questo è il tevere questo qua è il tevere un fiume passato alle ore delle crone che è passata là sotto sotto puoi parcheggiare con la macchina e poi ti faccio vedere qua che c'è lo spot puoi venire qui a mangiare in mezzo al bosco in mezzo alla natura quindi è un una fusione con la natura con l'ambiente col popolo col popolo degli uccelli col popolo delle piante col popolo delle aquile col popolo degli animali gli animali che vivono l'ambiente